Vado a Kiev con l'onorevole Kira Rudik. Com'è la situazione adesso e quando lei sente, legge, vede che ci sono anche non solo giornalisti, comuni cittadini, ma anche grandi potenze come la Cina che chiedono delle inchieste indipendenti per verificare, per esempio, se i morti civili a Buccia sono veri o se è una messa in scena. Cosa risponde lei? Cosa ci dice? Buonasera Lildi, grazie per avermi invitata. Io mi sono ricata a Buccia e anche nella periferia di Kiev, dove io ho visto di persona questi corpi martoriati e anche le fosse comune con 300 morti. Ho parlato anche con i superstiti e ho tante, tante storie che veramente vi raggederebbe il sangue ascoltarle, perché è difficile elaborare queste immagini. Ho parlato con donne che sono state stuprate di fronte ai figli, ho parlato con uomini le cui intere famiglie sono morte nell'incendio provocato dai razzi e dai missili russi. Ho visto i corpi di tre donne che sono stati bruciati dai russi e lasciati così sul ciglio della strada. Ho visto delle cose orribili, orripilanti provocate dai russi che non posso neanche iniziare a dirti come il mondo possa elaborare una situazione del genere. E per quanto riguarda la Cina e altri che dicono che può essere una montatura. Beh, noi ormai sono otto anni che siamo in guerra con la Russia. Noi conosciamo tutti i loro trucchetti, sappiamo come si comportano ed è per questo che quando il primo giorno io mi sono recata sul posto, ho fatto sì che tutti i giornalisti internazionali, i media, tutte le testate avessero accetto a questi luoghi per mostrare quello che era accaduto, affinché potessero parlare con le persone per mostrare la verità al mondo. E la Russia negherà sempre i suoi crimini, non è la prima volta, per otto anni hanno combattuto una guerra, nella parte orientale dell'Ucraina hanno detto no, non siamo noi. E tutto il mondo guardava e diceva ma sì, ma chi lo sa dove è la verità, chi sa chi è stato. E continuano a comportarsi in questo modo, ma in questo momento noi possiamo mostrare la verità. E io mi sono recata sul posto proprio per testimoniare, perché a un certo punto io, quando Putin sarà processato all'Aia, voglio essere lì e dire io c'ero, io l'ho visto. Io ho parlato con queste persone, ho visto le donne che tenevano in braccio il cadavere dei figli. Questo è tutto vero. Allora, onorevole Rudik, lei sa? Noi purtroppo sappiamo che è difficilissimo che Putin venga processato all'Aia, al Tribunale Penale Internazionale, perché come abbiamo anche spiegato qui a otto e mezzo lunedì sera, è una situazione molto complicata per mille motivi. Ma sicuramente Guido Brera c'è...